ci abbiamo pure shop dove andare preciso al punto io direi o town center alla gas station oppure a farm io ti giuro farm mi sembra troppo random come files perché se sono in quattro e ne siamo in due ci sovrastano capisci che voglio dire ok quindi direi che andiamo alla gas station di town center e poi partiamo e poi con le armi nostre andiamo dentro farms e mi prendo il coso precisamente non lo faccio in due a tre ok posa la mia game Ahi Oto C'è la mano, c'è la mano Sono montato Blacco, noi c'è Due sopra, arrivo Uno sotto, uno sotto Facciamolo insieme, facciamolo insieme Tieni Ricarico, devo ricaricare Prendo la corda, è sotto da te eh C'è un pompa, c'è un pompa Vengo io, vengo io Altro Bravo, bravo, bella flash, bella flash C'era un altro, c'era un altro C'era un altro, c'era un altro 19 a tre Bravo, Daniel, cazzo, dai Buono, 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 così, dai Sono qua sopra Bro, vai al ponte, vai al ponte Che ce ne sono un botto Aspetta, fammi caricare, sì sì, ce ne sono Devo andare qua, bro, ce ne ho due qua Ricaricato? L'ha visto? Sono morto Ci sei? Fatto uno Aiuteremmi qua? Palo Odio, odio C'è gente pure a cazzo al tanti, cazzo al tanti eh Guarda, ma si è meccato, ha capito quale? Quanto, quanto mi? All'altro suogo e al de' sistra A me, dà un botto I... Tu, tu, tu U ricordo sono qui E' capito che cazzo dello vero Sto qui qua Cazzo Impazzisco Impazzisco Ah un coglione Di continuo Ancora Dove metri da me J33DM sul ponte Ovvero Isattivati secondo me Sotto rimaneci qualcuno Si Quano il down down ci stanno il down Stanno da davanti a sinistra 1 o 2 sotto di me 1 divida qua giù davanti a me 2 kmj ho l'ho mirato ma non so da dove T3曜 di t7 C'è un sacco di gente che va a sinistra E' a sinistra a sinistra guarda G, guarda, ti vedete che tutti questi esci e qui sotto se puoi va bene c'è uno che ti segua, c'è uno che ti segua c'è l'ho il tuo top, c'è l'ho il tuo top ho fatto un altro qua, ho fatto un altro qua è uno qua, uno qua c'è, GGG attento è la eh questo è io, godo se io riesco a rubare qualche kill è l'ultimo, dovrebbe essere l'ultimo su di lui da dietro, da dietro, qui, qui bro, da dietro qua incastrato vaffanculo, ma che scura arrivano adesso non si può perdere l'odi, non si può perdere l'odi, è un loop totale c'è l'arma, c'è l'arma sta a rimanere la ferma, un guardabarco, c'è l'urido quindi siamo a di qua, c'è quindi siamo a di qua quindi siamo a di qua davanti a noi, davanti a noi, davanti a noi qua c'è l'altro vabbè vabbè bravo, timing man bravo, bravo bravo, bravo un sciocco di legno questo coso comunque buono, 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 buono si, si, instant mi ha fottuto i volpi vabbè, mi ha fatto questo sull'angolo ragà, dio santissimo, eterno io posso prendere qualcuna, io la posso prendere qualcuna porca zio oh, devo ricaricare, fuck ricaricare la vita ok, anche tra poco finisce il robo questo è in vita uno sta rendendo, uno sta rendendo no, non penso io altro andate a me tutto quando? sto parlando qua a sinistra c'è la maschera faccio il giro muoio, 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 così torno tritami, tritami che entro dal lato quello da stare, lo sciacallo a destra no, aspetta, aspetta, pazienta, B, brother 18 up una madonna guarda, dovremmo stare noi 30 alti, alti ovunque let's go let's go e andiamo con l'ultima, mi bro andiamo con l'ultima andiamo con l'ultima grazie a tutti